Benvenuti, siamo con la professoressa Giovanna Giammaruto, dirigente scolastico dell'Istituto di Amicis Cattaneo di Roma. Benvenuto professoressa. Grazie, grazie a voi. Professoressa Giammaruto, il vostro istituto è tra i primi a aver realizzato i laboratori con i fondi del PNRT. Oggi le avete inaugurati alla presenza del Ministro Valditana. Quanto sono stati importanti questi fondi, soprattutto per l'alta tecnologia presente in questi laboratori, in collaborazione anche con aziende del vostro territorio? Sì, diciamo che i fondi del PNRT sono stati una risorsa importante per realizzare, progettare e realizzare laboratori di alta tecnologia con dei macchinari che sono presenti nelle industrie, nelle grandi industrie. Abbiamo sfruttato questa risorsa, ripetendo su chi eravamo e dove volevamo arrivare. Il nostro obiettivo è appunto rendere la nostra scuola altamente tecnologica, nell'ottica anche di interdisciplinarità tra i vari indirizzi, perché qui a scuola sono presenti diversi indirizzi, è un tecnico professionale e abbiamo da una parte meccanica e meccadronica, ma abbiamo anche servizi sociosanitari, odontotecnica, ottica. Quindi abbiamo pensato che tutti gli indirizzi con questi laboratori potessero cooperare tra di loro, avendo, ottenendo delle competenze tali da poi sfruttare nel mondo del lavoro. La sinergia con le aziende del territorio è chiaramente una grandissima risorsa, perché anche qui c'è scambio di formazione e scambio di competenze, non soltanto a livello di studenti, ma anche di docenti. E' questo il percorso che vogliamo continuare a percorrere, aprendo anche al territorio e quindi agli altri istituti dell'Azio, di Roma, la possibilità di poter accedere ai nostri laboratori con uno scambio di competenze continuo. Ecco, la stessa, i laboratori come luogo di inclusione, in particolare di progettazione per l'appartimento delle barriere architettomiche, come ad esempio il laboratorio di domotica che abbiamo visto col ministro Valditara e che ha chiaramente rappresentato come può essere strutturata una casa a misura di persone diversamente abili. Ci spiega questo aspetto? Sì, la domotica ormai la fa da padrona nelle case moderne. Diciamo che la domotica aiuta molto la gestione di una casa anche a livello di risparmi, ma noi abbiamo sottolineato il valore che la domotica può avere nell'aiutare le persone disabili perché con ad esempio comandi vocali anche persone che magari sono allettate possono aprire semplicemente delle tapparelle o accendere e spegnere le luci oppure chiamare magari al telefono qualcuno, per cui è di fondamentale importanza la domotica a livello di disabilità perché aiuta tantissimo, fa sentire spesso le persone un po' più autonome. Ecco, diciamo anche prima il laboratorio come inclusione, quindi dietro allo studio e alla realizzazione del laboratorio c'è anche una didattica per laboratoriale. Come avete approcciato a questa caratteristica? Sono tante le metodologie utilizzate praticamente a scuola. Di sicuro un cooperative learning fatto anche con i ragazzi diversamente abili e soprattutto una metodologia del peer-to-peer tra studenti. È fondamentale progettare insieme, quindi anche a livello interdisciplinare, ma non solo, ma coinvolgendo anche tutti i vari indirizzi di scuola è fondamentale perché le competenze oggi devono essere necessariamente trasversali. Ecco, a proposito, voi avete realizzato fuori dal fondo PNRR un laboratorio in cui c'è una cucina realizzata appunto per il progetto del dopo di noi, quindi per portare verso una indipendenza i ragazzi con disabilità. Ci spiega cosa ti ha portato a realizzare questa cucina in un istituto che non è un abberghiero ma che è alla base di questo nostro progetto. Come ho detto, la mia scuola è una scuola altamente inclusiva. Siamo anche CTS, Centro Territoriale di Supporto alla Disabilità e quindi nelle nostre prerogative, nelle nostre idee di vita, chiaramente l'inclusione è preponderante. Abbiamo realizzato questa cucina perché abbiamo creduto che un progetto del genere possa rendere quanto più possibile autonomo il ragazzo diversamente abile. C'è l'acquisizione di diverse competenze come per esempio la cognizione di ciò che bisogna mangiare, gli step temporali, colazione, pranzo e cena, le quantità che bisogna manipolare, i cibi che bisogna utilizzare, la quantità, quindi la qualità. Per cui sono tutte competenze che rendono i nostri ragazzi sempre più autonomi. Quindi è un progetto di cui veramente ne vado orgogliosa. Ecco, lei diceva che questo progetto occupa un mondo in un'altra progettualità che prevede proprio il fatto di andare nei mercati a fare la stesa. Quindi questa cosa che abbiamo parlato adesso è la parte finale di questo progetto. Sì, diciamo che sono due step. La prima parte riguarda il portare i nostri ragazzi nei luoghi in cui si comprano i prodotti. Noi abbiamo la fortuna qui di avere il mercato destaccio vicino e quindi i nostri ragazzi con i docenti vanno al mercato per acquistare dei prodotti. È chiaro che a Monte c'è lo studio della moneta, la quantità della moneta, dallo scambio prodotto-moneta. Quindi c'è un lavoro a Monte importantissimo prima di portare i nostri ragazzi ad essere autonomi e comprare qualcosa al mercato. Dall'acquisto quindi si è passati poi a realizzare questo laboratorio che portava alla realizzazione di ciò che si acquista, soprattutto se l'acquisto era un prodotto alimentare. Quindi che fine faceva il prodotto alimentare? Che cosa serviva il prodotto alimentare? Serviva appunto a fare delle pietanze. Quando? Mattina, pranzo, sera. Quindi è veramente tutto molto concatenato e si fa tutto con tanta dedizione. Siamo molto contenti perché loro sono tutti interessati, partecipano ben volentieri a questo progetto bellissimo. Sono contenti di stare in cucina, sono contenti di sposcarsi le mani con marmellate e cioccolate. È veramente un progetto importante. Grazie a voi stessa per stare con noi. Grazie a voi, grazie veramente. Grazie Fabio veramente di tutto, grazie. Grazie a te. Spero che sia andato bene. Poi se vuoi qualche risotto lo vai tu.